vediamo è molto caldo anche che a Cremona sembra una giornata di luglio Sira Beck con al leader ovviamente l'ultima parola aspetta Sira Beck, altra million dollar che non ci sta con questo filo di paraface ricordo che ha vinto il futuro di America questo cavallo sotto la guida di Krasmarsha quindi non è l'ultimo arrivato sicuramente cavallo ovviamente di casa Elementa con cui l'abbiamo visto esordire a Verona wow gira tanto il paraface dove l'abbiamo visto esordire a Verona dove ha vinto il freestyle bellissimo dell'anno scorso è arrivata seconda nell'open traffic esatto vediamo Sira come ha familiarizzato in questi mesi wow di qua sì di qua tanta roba meraviglioso da questa parte di qua tanta roba da questa parte bellissimo tanta roba attenzione ragazzi perché questo è l'ultimo binomio quindi non vi scollate dal divano si è rientrata con un 4 e mezzo difficile ingresso vediamo costino in avanti per la partione Belga che mangia l'arena vai 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 bellissima gara mangia l'arena Sira mano tra le orecchie vediamo dal rally attenzione eh ragazzi si spegne fantastico si spegne si spegne si spegne attenzione eh diciamo che senza se senza ma senza ma è lì che sta dicendo è lì è lì è lì che dice la sua per il momento ragazzi ci sono anche per il momento siamo ancora lì vai 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 grande tifo a Cremona per questo binomio che mangia l'arena anche a sinistra guardate l'intertempo dei cerchi bello bellissimo bene l'acqua wow 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 dito solo wow anche nei cerchi di qua un cambio meraviglioso mamma mia e anche per lei ovviamente una di quelle miss indiscutibili con queste nostre amazzoni degli ultimi anni gli ultimi tre stop guardiamola molto esterna anche lei oh 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 indiscutibilmente è un credito grande per Chiara che prende anche l'applauso di tre caracole indietro non so non volevo non volevo dirlo non parliamo io e te hai capito bellissimo questo stop hai ragione vediamolo mamma mia oh mamma poi è che ero un becco viene via come un gatto un proiettile come un gatto nelle sabie di Cremona dopo aver dragato a fondo l'arena sembra storonione storonione lo vedi questo invece è un gatto una roba allucinante bellissimo questo cavallo che va a concludere la sua gara oh oh si anche qui magari leggero antipico ma belli bellissimo guarda dov'è rispetto all'ultimo bar pubblico rumoreggia nonostante siamo in pochi per il covid si è fatto sentire negli ultimi 15 cavalli salito in livello attenzione vediamo che cosa succede ovviamente siamo assolutamente in zone come la mettiamo ringraziamo il stile perché partiamo un pace anche il numero 396 e il vettelio vince ha vinto vedrai è di 228 bellissimo e abbiamo la nuova regina grazie